Abbiamo uno scenario definitivo, cosa che per ora in questa vertenza non abbiamo mai potuto avere. Si supponevano tanti possibili scenari che di volta in volta venivano sconvolti e non si manifestavano. Un minimo di sollievo ai 700 lavoratori in ansia da mesi. La FIMER è stata infatti ammessa dal Tribunale di Arezzo al concordato preventivo. Tra le varie ipotesi delle tante procedure concorsuali è quella che intanto garantisce la continuità lavorativa. Quindi questo è un dato che secondo me va preso in considerazione. Certo non possiamo gioire perché se siamo dentro un concordato siamo in un'azienda e in un'avvertenza che ha avuto notevoli difficoltà economico-finanziarie. L'avvertenza era infatti deflagrata nel novembre 2021 con l'annuncio del ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria per un centinaio di lavoratori. Da allora si erano susseguiti assemblee sindacali, presidi di fronte ai cancelli, incontri istituzionali anche al MISE per cercare soluzioni. Adesso il giudice fallimentare ha accolto il piano aziendale che era stato presentato dall'industria a fine dello scorso giugno. Va vista questa notizia come l'idea di avviare un percorso che possa consentire di sviluppare quello che nell'immediato è l'urgenza da risolvere. Ma in futuro diventi la prospettiva che traghetterebbe l'azienda fuori dalla crisi che sta vivendo e la potrebbe riaprire a degli scenari più opportuni e più consoni, visto che si parla di un'azienda nel settore delle rinnovabili e che quindi c'è il mercato, ci sono volumi e coglierli potrebbe voler dire anche recuperare quel gap economico se è verificato ora. Dopo l'ammissione al concordato in continuità diretta, la regione toscana e il comune di Terra Nuova Brecciolini chiedono di aprire subito un confronto con le organizzazioni sindacali e le istituzioni nel merito del piano e del futuro dello stabilimento. Io ritengo che oggi l'azienda deve darci un po' quelle spiegazioni su quelle che sono le prospettive che sono indicate in questa proposta di concordato che è stato omologato e che quindi traccia una linea di azione. Ovviamente gli aspetti che sono primariamente da chiarire sono in particolar modo riferiti a quali saranno le risorse economico-finanziarie su cui l'azienda può far conto per far ripartire l'attività e per proseguirla nel migliore dei modi e quali saranno le condizioni proposte ai creditori perché come sappiamo nella normativa è previsto che il concordato preventivo in continuità diretta ha come finalità la continuità di impresa ma allo stesso tempo anche il miglior soddisfacimento possibile delle esigenze dei creditori.